questa questa qua è la faccia di uno infetto da covid nonostante il vaccino sì sì perché allora era a fine maggio era a fine maggio ero a sofia presso il 29 maggio 29 maggio quel certificato scritto in cirillico e in inglese dove attesta che al pirogo di sofia sono stato vaccinato con la dose unica di johnson e johnson bene ora penso che un paio di collegamenti possono venire naturali del tipo se sei vaccinato come mai sei in queste condizioni partiamo appunto che sono a favore per la vaccinazione e ti mostro anche in questo video come il vaccino mi abbia salvato e abbia salvato le persone con le quali sono venuto a contatto quindi questo di base sarà un video differente rispetto a quel presente sui canali qua di invest hero in quanto noi parliamo principalmente di investimenti di imprenditoria di mindset dell'investitore dell'imprenditore però questo giro parlo di un tema abbastanza sentito questo nel periodo covid dando comunque anche un risvolto economico perché poi alla fine è nostro interesse comprendere quali possibili sviluppi ci possano essere anche con questa situazione che ci colpisce da quasi due anni inseriamo le prime variabili in questa storia da un paio di settimane ho iniziato a frequentare due ragazze a braga che sono amiche vivono nella stessa casa e più due volte sono rimaste da me a dormire bene queste due ragazze una è vaccinata l'altra no e per ora teniamoli un attimo da parte perché le ho conosciute circa da metà luglio e ho avuto contatti con loro nel corso di queste settimane poi l'altro fattore è che in data 4 agosto io ho effettuato un tampone in quel di praga che è risultato negativo molto bene poi in data 5 sono andato a ritirare un amico in carcere sono andato a prenderlo all'uscita del carcere quindi siamo stati anche a stretto contatto con diverse persone e in data 6 ho preso il volo per entrare in italia ora sul volo avevo accusato un po di bruciore di gola quando sono atterrato poi ho detto vabbè siccome mi era già capitato in passato vuoi l'aria condizionata gli sbalzi di temperatura bevi poca acqua durante il tragitto può capitare questa cosa quindi non ci ho fatto molto peso però nel tragitto dall'aeroporto per entrare verso casa a milano cosa è uscito fuori che stavo messaggiando con una di queste due ragazze e mi fa guarda che sono positiva a covid ho fatto il tampone e mi è arrivato il risultato poco fa ed era già allettata da un paio di giorni con febbre e stanchezza generale molto bene quindi sento anche l'altra ragazza che in quel momento non era con lei aveva detto che aveva passato un paio di giorni un po stanca però l'aveva passata abbastanza bene quest'altra ragazza è quella che è stata vaccinata quindi cosa abbiamo abbiamo una situazione dove la ragazza numero uno quella non vaccinata ha passato diversi giorni allettata con la febbre a 40 e poco fa l'ho chiamata e effettivamente è ancora alletto stanca con minor febbre quindi è comunque in fase di recupero l'altra ragazza vaccinata invece ha passato un paio di giorni un po stanca così però ha ripreso un po la vita di tutti i giorni tipo l'ho risentita anche lei poco fa ed ero uscito fuori che stava facendo una corsa per per attività personale molto bene cosa è successo invece a me in data 6 quindi ho preso l'aereo sono arrivato qua a milano sentivo un po il grattino durante la sera ho accusato molta stanchezza però ci poteva stare per la questione del viaggio e tutto la notte non ho dormito niente mi sveglio la mattina del 7 ovvero ieri il video che sto registrando adesso è 8 agosto la mattina e in data 7 ieri mattina vado a fare colazione non sento sapori non sento sapore non sento d'ore detto va bene quindi sono infetto nonostante abbia fatto il vaccino durante la giornata di ieri poi ho passato dei momenti anche abbastanza critici fatica a respirare tanta tanta tosse durante la giornata non riuscivo comunque a portare avanti una discussione intera senza tossire e soprattutto febbre che oscillava tra i 37 5 e 38 stanchezza generale molto 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 forte però ieri sera qualcosa era cambiato infatti ceno e durante la cena ho iniziato a sentire qualche sapore ricordo perfettamente quando ho sentito il salato della focaccia un po oppure anche l'agro del peperone ho detto beh qua qualcosa sta cambiando cosa che comunque durante la colazione e durante il pranzo proprio non sentivo nulla molto bene passa la notte la notte è passata anche abbastanza tranquilla ho fatto fatica a dormire non male stamattina mi sveglio febbre non supera i 37 37 5 e comunque riesco a muovermi con più costanza ieri ero molto molto stanco oggi invece sembra che stia andando molto bene e quindi questo cosa può andare a riportare può andare a riportare che effettivamente il vaccino per me è stato abbastanza funzionale così come anche per l'altra ragazza vaccinata anche lei dico che ha ripreso la vita di tutti i giorni però ha usato meno il colpo rispetto alla ragazza vaccinata interessante poi ho parlato con un paio di amici perché io ho studiato chimica farmaceutica all'università non completato il percorso di studi lasciato a sette esami dalla fine però ho sentito altri amici che hanno portato avanti il percorso di studi e adesso lavorano nel settore farmaceutico che un paio di questi mi hanno fatto presente che è vero uno può essere vaccinato però può essere infettato di certo il vaccino l'aiuto che può dare è andare ad attutire i sintomi quindi cercare un po di mitigare i sintomi non troppo forte infatti l'altra ragazza ha 40 di febbre io oltre 38 non sono mai andato velocizzare il tempo di recupero quindi la decorrenza del della malattia è velocizzata infatti la ragazza non vaccinata sta portando avanti sintomi abbastanza importanti da diversi giorni al contrario io e l'altra ragazza vaccinata stiamo siamo tutto sommato molto molto meglio direi così come l'altro aspetto importante del vaccino è che sono una persona che rischia meno di infettare le altre persone infatti sono stato a contatto anche con altre persone in questi giorni in quanto non ero a conoscenza della situazione di questa ragazza che era infetta non dimostravo grossi sintomi eppure sentendo poi tutte le varie persone con le quali ho avuto contatti stanno tutti bene questa cosa mi fa molto molto piacere di base il vaccino mi ha aiutato e sta aiutando le persone che sono state vaccinate tutte le persone quelle quali sto venendo a contatto però ora parliamo di un paio di aspetti economici su questa situazione in quanto il momento covid ce lo stiamo portandosi da gennaio febbraio dello scorso anno e mi ricordo perfettamente che a gennaio del 2020 ero a sofia avevamo fatto una live sulla community di invest hero tra l'altro se non sei iscritto sotto nel link di descrizione trovi il sotto nella descrizione trovi il link per accedere a questa community abbiamo fatto quella live e mi ricordo perfettamente che ho detto questa situazione di emergenza virus la questione delle mascherine tutte queste cose qua no mascherine e malattie di carattere virale per le vie aeree superiori potrebbe essere un trend per i prossimi anni come non so le malattie sessualmente trasmissibili lights e quant'altro sono stati lo spauracchio degli anni 70 e anni 80 nei prossimi anni un trend molto forte potrebbe essere questo perché perché comunque ci sono problematiche di sovrappopolazione assoluta lo vediamo che determinati centri urbani sono molto molto più ad alta densità di popolazione rispetto ad altri e qui c'è la possibilità di trasmettere malattie di carattere aereo con una facilità estrema quindi la mascherina diventerà qualcosa che porteremo avanti nel corso dei successivi anni senza nessun problema e non la vero neanche così male come cosa perché in cina e in giappone la stanno applicando da da diversi anni e per loro è abitudine andare sui mezzi pubblici durante determinati periodi dell'anno coperti e protetti poi diciamoci d'inverno tiene anche caldo si sta bene così però questo qua è un mio punto di vista sui numeri che ci sono nel corso di quest'estate tra infetti non infetti e quant'altro se si continua con quest'ottica tempo ottobre si ripartirà con un lockdown abbastanza soft dove ci possono essere coprifuoco limitazioni e quant'altro poi vero si sta sviluppando il concetto di green pass che già attivo da da diverse settimane su alcuni stati europei e in italia da un paio di giorni però siccome già diversi stati lo stanno applicando diventerà una normativa a livello europeo applicata da tutti quindi cosa mi aspetto che durante il corso di questi mesi se i numeri di infetti sono sempre in aumento ma soprattutto se i numeri vaccinati non vanno a completare la curva della popolazione probabilmente si ritorna ad un momento di chiusura con tutto quello che ne va a conseguire quindi tutte le problematiche di carattere economico dove le aziende sono limitate dovranno lasciare a casa nuovamente altre persone pressione da parte di privati e di aziende verso lo stato per dare per ricevere determinate sovvenzioni e quindi in maniera continuativa e passo per passo mi aspetto un tracollo a livello economico partendo dalla micro economia locale quindi questo poi potrebbe andare a portare ad uno sviluppo di una crisi molto molto più consistente a livello finanziario con crollo dei relativi mercati già era successo a inizio 2020 abbiamo visto come nel corso di pochi giorni tutte le borse a livello internazionale siano crollate anche bitcoin anche la parte di cripto non aveva retto il colpo però c'è stata una ripresa veramente assurda e non è una ripresa molto sana stiamo a vedere però io il grosso della recessione me lo aspetto ancora e quindi sto restando molto molto liquido non sono esposto su determinati asset chi mi segue qua sul canale sa che sono molto più orientato sulla parte cripto sui nuovi progetti quindi è vero che sto tenendo dei capisaldi nel mio portafoglio cripto come bitcoin e altre monete già conosciute da diversi anni però sono molto molto orientato a monete nuove con possibilità di crescita molto più spinta e ben ben definita questa cosa chiaramente mi permette di utilizzare poca liquidità perché essendo una serie di investimenti ad alto rischio posso andare a perdere quel capitale però anche vero che quel capitale seppur ridotto può fare un per due per tre in poco tempo quindi mi sto orientando molto molto su quello poi nel momento in cui mi ritrovo su parti di investimenti immobiliari le valuto sempre però a livello finanziario anche lì sono abbastanza flat nel senso che ho sempre attivi i vari tf sulle economie mondiali l'acqua gli games durante il crollo sono entrato sui titoli che hanno a che fare con il food beverage in quanto hanno accusato il colpo sì però le persone sempre andranno a utilizzare queste cose infatti si vede che sono comunque in trend positivo e per ora le sto lasciando queste e sono molto molto leggero su queste posizioni perché perché mi aspetto comunque uno storno molto importante nel corso dei prossimi mesi magari dato anche da questa situazione covid non ancora confermata tra numero di vaccinati e popolazione su ogni singolo stato questo è un po quello che mi aspetto io comunque vi tengo aggiornati se vi fa piacere sulle mie condizioni che al momento stanno migliorando vi tengo anche aggiornati sulle condizioni delle altre persone con le quali sono venuto a contatto perché è giusto anche mantenere questi casi studio protrati nel tempo così da vedere se effettivamente il vaccino è funzionale oppure no chiaro ti lascio tutti i vari link per seguirci sui vari canali qua nella descrizione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao